eccoci buonasera a tutti buonasera siete già in tantissimi carlo gianni fabio nadia renato michele antonino denis insomma tante persone alcuni del quale sono quasi amici perché sono tanti anni che che mi sentono mi seguono qualcun altro invece da meno tempo fabio insomma riccardo antonia massimiliano loris eccetera io prima di iniziare così come faccio di solito vi chiedo un breve feedback se mi sentite perché ho fatto tutte le prove col microfono in verità pochi minuti fa però magari non è detto che le cose funzioni se qualcuno mi scrive se mi sentite se funziona tutto in maniera corretta direi che tutto ok perfetto bene allora cominciamo i contenuti di questa serata sono tanti ci sarà una parte come sempre diciamo descrittiva e poi ci sarà una parte invece dedicata alle domande in cui sarò qua come vedete siamo in diretta live sono le ore 21 e un minuto del 19 settembre per approfondire appunto le tematiche che vedremo vedremo come costruire un portafoglio anti inflazione senza darvi ricette miracolose e dando invece un'enfasi particolare al ruolo che ha la formazione nell'affrontare oggi il tema della dell'inflazione oggi tema inflativo quello che ci interessa di più e quello contingente domani sarà qualche cosa altro però quello che mi interessa e riconoscere alcuni errori che più o meno si presentano sempre anche se oggi ci concentreremo rispetto webinar passati su alcuni errori che secondo me sono più diciamo spigolosi e poi dopo michele chiede stai registrando assolutamente sì nel link dove siete adesso se voi riaccederete domani troverete il contenuto dicevo quindi gli errori più spigolosi e anche qualche strumento partiamo da questo questa serata è una serata in cui parleremo di formazione presenteremo i servizi di formazione di segreti bancari e ci sarà anche un bonus per voi ma non vi voglio spoilerare nulla il concetto qual è è che il binomio giusta formazione giusti guadagni funziona anche in periodi inflativi ci tengo precisare subito una cosa poi lo vedremo negli errori che giusta forma giusti guadagni non vuol dire naturalmente raddoppiare capitale in pochi giorni o come qualcuno mi ha chiesto anche privatamente con delle telefonate ma allora vuol dire più o meno quanto posso aspettarmi di rendimento l'otto per cento a bene l'otto per cento il mese buono no aspetta forse non ci siamo capiti l'otto per cento è su base annua perché appunto l'investitore consapevole quello che vuole far crescere il proprio capitale sa bene che non può ambire a risultati estremamente positivi in un contesto di mercato che quello che è ma fossimo anche in un altro un altro scenario comunque cambierebbe poco il concetto dell'investimento avere una crescita del capitale in maniera costante nel tempo più possibile costante nel tempo e allora vediamo un pochino gli errori perché l'inflazione è stata un fulmine a ciel sereno ha sorpreso tutti gli stessi banchieri centrali io lo indicavo come un possibile buonasera Cristina buonasera Diego buonasera Vito lo indicavo come un possibile focolaio diciamo di rischio però il problema è che molto di quello che vedremo questa sera in realtà è sommerso perché l'inflazione è la punta di un iceberg che racchiude una serie di errori e di procedure da utilizzare per superare questa fase contingente al di là del magari maquillage delle slide io avrei potuto dirvi le stesse cose se anziché l'inflazione avessimo parlato di deflazione avessimo parlato di carestie avessimo parlato di altre cose perché perché la mente umana tende a riproporre le stessi comportamenti gli stessi stili comportamentali e quindi le persone purtroppo commettono sempre le stesse scivolano sempre sulle stesse bucce di banana normalmente durante le fasi di incertezza gli investitori hanno il rimpianto del caro vecchio btp cioè hanno rimpianto di potere portare a casa dei guadagni interessanti senza sbattersi più di tanto e questa tentativo se vogliamo anche un po se mi permettete un po infantile di cercare il guadagno facile porta con sé tutta una serie di problemi perché vedremo che poi anche in queste fasi si distorce un po quella che è la propria percezione del rischio e molte volte si cade poi vittima magari addirittura di truffe o roba del genere può sembrare una banalità ma vi assicuro che non lo è perché io in 30 anni che mi occupo di investimenti ne ho visto un po di tutti i colori la ricerca del guadagno facile è una costante è una costante ma in momenti di crisi viene fuori in maniera più prepotente così come viene fuori in maniera più prepotente anche l'idea del io mi sarei accontentato del 5 per cento del btp peccato che btp oggi oggi il decennale forse rende intorno 4 per cento un anno fa non lo faceva e in ogni caso il btp perde il 20 per cento di inizio anno quali sono allora questi errori su cui vorrei richiamare la vostra attenzione il primo è vecchio come il mondo e il cosiddetto schema ponzi questa è una vera e propria truffa molte volte si creano sui mercati degli schemi ponzi naturali immaginate per esempio le bolle speculative ma vi racconto brevemente che cos'è lo schema ponzi così poi ne vediamo nelle varie declinazioni è uno schema ideato dal italo americano charles ponzi noi italiani insomma non siamo sempre come dire portatori del buon cibo e buona buon vestito buona buona moda a volte siamo anche portatori di qualche truffa e roba del genere sostanzialmente uno schema ponzi uno schema che prevede la promessa di un rendimento garantito e alto e questa promessa effettivamente viene mantenuta immaginate che il signor rossi crei uno schema ponzi che cosa fa inizia a promettere per esempio il 10 12 per cento di rendimento all'anno e questo fa sì che le persone iniziano dargli dei soldi gli danno i soldi lui all'inizio prende il denaro suo poi magari come vedremo prenderà il denaro di altri ma comunque inizia a pagare questo 10 per cento di interesse e le persone sono contente per cui cosa succede che inizia il passaparola anche per con 10 per cento è un tasso ovviamente fuori mercato in un contesto attuale fa sì che altre persone vengano attratte e quindi lo schema ponzi prevede che il signor rossi che l'ha messo in piedi utilizzi il denaro degli ultimi per pagare i primi ovviamente come potete immaginare questa non può continuare a andare avanti in eterno ecco grazie entro puoi parlare di come vestire a 60 anni assolutamente sì parleremo di tutto di come fare a investire utilizzando un percorso molto specifico vi dicevo questo meccanismo non può funzionare per sempre per cui lo schema ponzi un certo punto salta per aria se una truffa per esempio c'era madov che è stato uno di più famosi ma poi c'è stato anche un altro italiano di cui non ricordo il nome che era noto come il mado dei parioli perché era romano naturalmente poi finisce con qualcuno che va in manette e qualcun altro che perde tutto però molte volte gli schema ponzi si creano proprio in maniera spontanea in maniera naturale pensate le bolle speculative pensate a movimenti di mercato oppure a sbolle speculative nel senso che c'è una situazione di mercato magari conveniente ma le persone hanno paura di investire quindi fenomeni legati poi in buona sostanza anche al discorso della psicologia del gregge però ecco io credo che la prima cosa da dirvi è fate attenzione le promesse facili oggi ci sono tantissimi siti non sta a me naturalmente dire quali siano ma se li trovate cercate ritrovate con facilità che promettono grandissimi guadagni e fanno leva sul fatto che c'è l'inflazione quindi l'inflazione l'8 per cento io ti do 10 ti do 12 tu porti casa un bel guadagno e poi magari rischi di perdere capitale la seconda cosa è la sottostima del rischio perché le persone tendono a procrastinare le situazioni precedenti cioè le persone pensano che in qualche modo quello che ha funzionato fino a ieri funzioni anche oggi in termini proprio macro macroscopici e quindi che cosa fanno per esempio cosa hanno fatto non accontentandosi del fatto che non rendendosi conto insomma non accettando fatto che i titoli di stato rendevano poco hanno cominciato allungare la durata delle obbligazioni voi pensate grande gioia del tesoro c'è stata un boom colossale del vtp futura che un titolo che rendeva molto poco era un titolo già abbastanza pericoloso da cui era meglio stare alla larga o comunque prenderlo molto con quelle pinze eppure sull'euforia un po del patriottismo sull'euforia insomma del momento e tanti hanno comprato il vtp futura oggi vtp futura non rende un bel niente anzi perde un bel po di soldi perché comunque l'inflazione fa sì che il capitale venga depauperato sostanzialmente e non c'è un meccanismo di adeguamento della cedola e poi l'altra cosa è come vi dicevo il fatto che le persone non accettando di portare a casa guadagni normali cercano strumenti alternativi io qua vi ho segnato il binary options i cfd le cryptocurrency perché sono delle cose che negli anni hanno avuto diversi momenti di gloria le per esempio le binary options erano delle scommesse sul fatto che un titolo se li si scendesse quindi erano delle opzioni binarie perché binario era l'esito va su guadagni non importa di quanto vada su scende perdi o viceversa erano credo gli anni 2017 2018 poi sono arrivate i cfd i contratti per differenza e poi adesso le le cripto valute cripto valute che ovviamente non sono di per sé un qualcosa di negativo non è che sto dicendo che siano una truffa assolutamente però sono qualcosa che vanno maneggiate con cura perché di nuovo discorso è c'è l'inflazione ok io voglio portare a casa un guadagno elevato lo voglio portare nel breve termine questa è una parola chiave fondamentale guadagno elevato nel breve termine perché noi guardiamo io sono mio per quindi lo so molto bene a distanza ravvicinata e a distanza ravvicinata l'unico modo per portare a casa un guadagno che superi il tasso di inflazione naturalmente è quello di correre rischi maggiori però il rischio viene sottostimato oggi molti di voi sono forse giustamente anche preoccupati per il mercato azionario però pochi invece sono preoccupati per altri focolà di rischio io sono sicuro che magari tra voi ci ho visto che siete comunque tanti collegati insomma sono convinto che qualcuno ha pensato magari l'ha già fatto di investire sul gas naturale perché vediamo che il gas scorre e quindi andiamo a pensare di fare l'affare come alcuni miei ex clienti di quando ero in banca quasi vent'anni fa all'epoca compravano volevano comprare petrolio perché petrolio era caro e poi veniamo al terzo errore questo è un errore più insidioso il mantenimento dello status quo l'inflazione come qualsiasi shock esogeno che va a colpire i mercati colpisce anche intimamente la nostra psiche interessante c'è c'è un bel libro che si intitola your mind and your brain di jason zweig che ha condotto insieme a degli neuropsichiatri tutta una serie di esperimenti sulla psiche e dimostra proprio come si attivano delle aree del cervello secondo del fatto che guadagniamo che perdiamo come si attiverebbero se utilizzassimo per esempio delle droghe ora l'impatto che ha la nostra psiche sui nostri investimenti molto forte la paura di perdere lo è altrettanto durante le fasi diciamo di incertezza in senso ampio le persone tendono a mantenere lo status quo status quo vuol dire non fare nulla per esempio oggi le persone hanno tanta liquidità ne hanno troppa liquidità poi vedremo anche il contraltare di questo però avere tantissima liquidità è un qualcosa che in uno scenario inflazionistico non va bene va bene nel breve periodo se una scelta tattica perché comunque avere tanti liquidità significa che in buona sostanza puoi comprare se mercato scende ammesso che scenda però nel lungo andare è sicuramente è una scelta assolutamente subottimale però l'idea del ho paura sto fermo è un qualche cosa che che è tangibile io non so se prima avete sentito baiare un cucciolo da poche settimane che è un cuccio di maltese piccolino quando lo porto fuori paura lui che cosa fa quando paura si mobilizza diventa letteralmente di ghiaccio ecco questo è un atteggiamento che all'investitore che è comprensibile ma che deleterio da un punto di vista poi economico e poi abbiamo quella che è un errore veramente pesantissimo che la distorsione da breve periodo distorsione del breve periodo in inglese si chiama l'effetto recency vuol dire proiettare nel futuro quello che è successo nel recente passato perché la nostra mente se deve fronteggiare qualche scenario che non conosce cerca nel passato cerca dei riferimenti cerca degli ancoraggi e perché pericoloso perché il futuro non è quasi mai la proiezione del recente passato che io per chi mi segue su youtube magari guardando lo chiamavano saverò parlato adesso non ricordo se l'abbiamo già è già uscito se uscirà domani comunque un video sul conviene investire in gas naturale la risposta è no perché perché il gas naturale per che motivo attrae gli investitori perché le persone guardano dietro vedono in modo retroattivo con lo specchietto retrovisore che il gas naturale è cresciuto e pensano che vada ancora avanti così questa è una cosa molto molto negativa quando si tratta di inflazione anche perché perché prima vi dicevo che ci sono persone che tengono troppa liquidità ci sono invece persone che in qualche modo sottostimano gli effetti dell'inflazione sul lungo periodo cioè vi dicevo prima la parola chiave breve periodo perché perché oggi ottenere in modo istantaneo in modo rapidissimo un guadagno superiore al tasso di inflazione amici miei praticamente impossibile ve lo dico perché l'inflazione su livelli abnormemente alti e portare a casa nell'arco di sei mesi un guadagno che superi il 9 per cento impossibile però dobbiamo essere ben consapevoli di una cosa cioè che questa situazione è una situazione diciamo di eccezionale è una situazione sparametrata così come lo era l'inflazione bassissima di 4 o 5 anni fa forse oggi è una situazione opposta quindi se noi guardiamo non a domani ma guardiamo a tra i prossimi cinque prossimi dieci anni ci accorgiamo che forse dire l'inflazione si abbasserà quindi il rendimento tornerà a essere positivo non sarà più necessario avere 10 per cento per portare a casa un guadagno reale dove vi ricordo guadagno reale tasso di rendimento meno tasso di inflazione se questa differenza negativa voi perdete di soldi distorsione di breve periodo vuol dire l'inflazione alti mercati crollano quindi io tengo i soldi sul conto corrente i quali prossimi dieci anni avete perso un sacco di soldi allora quali sono un po gli strumenti efficaci come vi ho detto lo strumento più importante di tutti buonasera buonasera anche chi si è collegato adesso che denso nel video non è sera sì certo che sera che io sono nel mio studio e sono illuminato vi dicevo il primo strumento strumento efficace è la nostra testa nel senso che noi dobbiamo essere consapevoli di questo dobbiamo dare al giusto peso agli eventi c'è un altro errore che commettiamo che l'euristica della disponibilità cioè tanto più un evento è disponibile nella nostra memoria con facilità tanto più lo riteniamo probabile ecco perché chi ha la mia età per esempio chi anche qualche anno in più è più spaventato dell'inflazione di uno giovane perché io mi ricordo negli anni 90 che l'inflazione era dell'8 9 per cento di fatti il tasso di interesse legale era passato nel 90 91 dal 5 al 10 per cento proprio perché l'inflazione correva chi invece magari è della generazione di un millennial l'inflazione non ha mai saputo cosa fosse non ha mai vissuto quindi oggi è un po più spaventato e però appunto l'idea di essere troppo ancorati a quello che è successo nel breve periodo sicuramente è un qualche cosa che dobbiamo andare a superare ma vediamo adesso alcuni indicatori perché come vi ho detto noi non possiamo capire cosa farà l'inflazione però abbiamo dei parametri di riferimento i parametri che un portafoglio ben costruito personalizzato per chi ha 60 anni per chi ne ha 50 insomma perché fate voi un portafoglio ben diversificato costruito secondo una serie di principi nel tempo darà degli dei risultati il tema quindi si sposta se vogliamo a che cosa fare cioè tema dell'inflazione si sposa anche con il tema dei mercati che sono instabili perché abbiamo vissuto un 2022 molto pesante quella scorsa è stata la peggior settimana del sicuramente dell'anno ma forse anche il decennio delle sp 500 con una serie di profit warning e quindi le persone giustamente dicono beh ma io ho capito sono d'accordo con te daniele giacomo che comunque ai sostanzialmente detto che nel lungo andare un portafoglio equilibrato prende più dell'inflazione ma come faccio a costruirlo quando entro quando esco allora vediamo due indicatori abbastanza semplici in realtà sono complessi soprattutto uno su come viene costruito però sono di immediata efficacia sono due indicatori da utilizzare per chi come vedremo sceglie un approccio crodo un approccio crodo cioè segue sostanzialmente il mercato un trend following e qui abbiamo il cli e le medie mobili poi vedremo che esiste anche un approccio contrarian che invece va bene per altri investitori perché ovviamente non tutti sono disposti a seguire i mercati qualcuno vuole magari mediare quando il prezzo è basso e così via il cli è un indicatore molto complesso anzi partiamo dalle medie mobili scusate medie mobili gli medie mobili sono un indicatore come si suol dire di sentiment ovvero cercano di interpretare una tendenza vi ho detto che le cose che dico adesso avrei potuto dirvele anche in un altro contesto perché perché la mente umana è sempre quella la storia si ripete cioè il comportamento umano in condizioni simili tende a riprodursi e una seconda caratteristica che hanno le persone è che una tendenza in atto tende a mantenersi e il mantenimento dello status quo e la prosecuzione di una relazione se uno ha la fidanzata normalmente continua essere fidanzato no fin tanto che non subentra magari qualche evento esterno lo si becca col vicino di casa o che so io allora si interrompe questo in finanza adesso dia delle battute è un concetto di trend il trend che cos'è sostanzialmente è una successione di massimi minimi crescenti che fa sì che si possono individuare appunto delle tendenze tendenze che non sono scienza esatta possono essere invertite in qualsiasi momento tant'è che si parla anche di effetto noè perlomeno si parla ne parlava il grande benoit mandelbrot grande matematico che ha inventato la finanza frattale però sostanzialmente una tendenza positiva continua esserci la media mobile è una media di n dati rotativa quindi se io prendo la media mobile a 200 giorni faccio la media dei 200 giorni precedenti domani che cosa farò toglierò il giorno più vecchio aggiungerò oggi e così via immaginate di avere una finestra che si sposta nel tempo quella che vi propongo io questa è applicata a un etf se non ricordo male l'etf sull'eserci classico sul mc world l'ho trovata su trading view che una piattaforma gratuita che potete utilizzare potete disarvirvi queste sono un grafico settimanale e questa è la media mobile a 40 settimane normalmente chi utilizza un non per fini speculativi ma utilizza un grafico giornaliero quindi un prezzo di chiusura giornaliero utilizza i dati la 200 giorni 40 settimane più o meno sono 200 giorni anzi sono 200 giorni perché 200 diviso 5 fa 40 che è appunto il numero della settimana allora l'idea qual è che il trend positivo fin tanto che il prezzo sta sopra la media mobile quando invece si porta sotto la situazione può essere una situazione di mercato direi sicuramente non rialzista potrebbe essere un mercato ribassista o come molte volte succede un mercato laterale mercato laterale un mercato in cui si susseguono poi dei dettagli della media mobile perché uno vederla così potrebbe dire beh è semplicissimo io quando vedo che il prezzo mi scavalca la media mobile da sotto a sopra compro e quando va da sopra a sotto vendo questo è sicuramente una cosa interessante da fare bisogna però utilizzare altri indicatori applicare dei filtri perché vedete qui come questa sì questa strategia di per sé sarebbe stata fallimentare perché qua uno avrebbe venduto poi avrebbe ricomprato poi venduto insomma l'indicatore impazzisce quando c'è una un movimento laterale certo è che le medie mobile proteggono nelle crolli di mercato di fatti erano diventate molto famose dopo il 2008 credo che ci sia in rete un pamphlet un libretto insomma digitale di faber che parlava proprio dell'utilizzo delle medie mobili e aveva avuto successo perché vedete per esempio nel periodo del covid effettivamente io avrebbe fatto vendere a metà del crollo quindi resta evitato tutto questo tonfo qua però sareste poi rientrati a livello qui siete usciti perché uno dei difetti della media mobile oltre il fatto che genera diversi falsi segnali quindi inverte scusate poi mi dicono che non vedete il mouse ma in realtà però riuscite forse a seguirmi lo stesso non so perché non si veda ecco non si vede appunto il cursore ok cerco di descriverlo a voce ma direi che abbastanza semplice anche vedelo sul grafico qua nel 2020 dove c'è questo picco di crollo verticale quello è stato il covid dopodiché è partito grazie carlo che dice si capisce comunque è partito poi un trend rialzista che quello che è durato sostanzialmente fino adesso vi dicevo problemi delle medie mobili sono due il primo è che generano parecchi falsi segnali soprattutto quando non c'è un movimento direzionale ben definito ovvero come si dice in piemontese mercato mitunga mitunga il rumore che falla alla pentola della della minestra quando bolle e e poi che agisce in ritardo è un indicatore con un lag con un una risposta ritardata invece il click li è molto interessante il click che cos'è e lista per composite leading indicator è un indicatore calcolato dall'ox e è un indicatore macroeconomico quindi non è un qualche cosa che ha a che fare con i mercati finanziari direttamente è un indicatore previsionale che anticipa con circa sei mesi i punti di svolta futuri dell'economia l'idea sottostante che anche qua purtroppo non è sempre vera e che i mercati finanziari banche centrali permettendo scontino anticipino quello che succederà l'economia quindi se ne riusciamo qualche modo a intercettare le variazioni della dell'economia l'accelerazione o la decelerazione riusciamo anche a entrare uscire dei mercati in maniera più attenta il cli non è perfetto va visto anche in abbinata con la media mobile come viene calcolato clicli e come riferimento 1 o 100 di 100 è un valore dinamico cioè 100 sempre 100 dinamico è il la situazione in cui viene abbinata lì viene calcolato su diversi paesi tranne che per la russia perché ormai con la guerra diciamo che l'oxe ha deciso di non pubblicarlo più e ipotizza che a livello di 100 corrisponda dinamicamente una situazione di piena crescita economica sostanzialmente va da sé che quando il cli supera 100 l'economia in una fase di accelerazione di crescita anzi crescita non accelerazione quando cli scende al di sotto siamo in una fase invece di decrescita o decelerazione ancora una volta nella parte destra del grafico vedete quella spaccata verticale molto importante che appunto il crollo che c'è stato nel 2020 come si usa il cli beh uno può vedere un po la tendenza del cli ma soprattutto noi l'abbiamo un po elaborato con con l'aiuto di anzi si è parlato per primo un amico che è un analista finanziario un po di anni fa e poi ho preso ispirazione da lì sostanzialmente si va a vedere l'accelerazione o la decelerazione perché quando il cli inizia ad accelerare è verosimile che l'economia stia uscendo dalle sacche di una recessione per esempio e quindi forse vale la pena cominciare a investire sul mercato azionario se poi successivamente anche la media mobile viene dietro accompagna direi che quello è indubbiamente la conferma e si può continuare a investire sul mercato azionario questo perché i mercati non interessa tanto il livello assoluto del cli quanto la sua accelerazione nel marzo del 2009 i mercati azionari erano veramente in una situazione a dire poco precaria però il cli indicava già impossibile una possibile svolta dell'economia quindi chi ha iniziato a investire in quel momento lì sicuramente ha portato a casa poi di buoni guadagni il vero punto come dicevo è il procrastinare il la valutazione degli investimenti nel tempo e 15 anni sembrano un'esagerazione io sono ancora relativamente giovane ma mi rendo conto che tante persone cominciano a dire beh ma io 60 anni fra 15 anni chissà se sarò ancora vivo beh amici miei lasciatevi che vi dica una cosa anzi due cose la prima cosa è che la vita media si è allungata banalmente se voi guardate gli annunci mortuari della vostra città vedete che ci sono persone che muoiono con 96 97 98 anni se guardate i film degli anni 80 immaginate me 80 come un vecchietto perché 50 anni era vecchietto vicino di casa che che a 63 64 anni l'ho incontrato stamattina mentre portavo mio figlio a scuola in bicicletta che splendida forma quindi la vita media si allunga quindi è verosimile che uno effettivamente viva a lungo viva anche di più di quello che aveva preventivato la seconda cosa è che chi come me come molti di voi magari hanno figli il movente ereditario fa sì che l'orizzonte temporale vada oltre il la vita stessa oran buffett non è un deficiente a dire io investo per il lungo periodo perché a 90 anni si rende conto anche lui che per lui lungo periodo non ci sarà più ma si rende anche conto che il patrimonio accumulato passerà alla moglie passare i figli andrà alle opere filantropiche creerà comunque dei dei fondi che aiuteranno altre persone così via quindi 15 anni che sembrano così tanti sono veramente un lampo tra l'altro appunto 15 anni fa c'era la crisi di mutui su prime non so voi ma sembrava di ieri di rivedere queste persone di lambradas che uscivano con gli scatoloni dalla banca perché la banca li va licenziati essendo fallita sono passati 15 anni io ricordo sempre le parole di ken fisher che è un altro competitor nel senso che lui è anche offre servizi di consulenza finanziaria e le statistiche dicono che nel 94,10 per cento di casi le azioni usa quindi per farvela breve le semplici 500 ha avuto un ritorno positivo su 20 anni le azioni usa hanno avuto sempre un ritorno positivo qui è una un eccesso provocatorio nel senso che chi investe in azioni lo vedremo non investe solo in azioni usa ma anche prendendo a riferimento il periodo post bolla 2000 quindi 2000 2015 2020 le azioni anche le azioni usa col cambio con la cooperatura del cambio senza cooperatura del cambio quello che volete voi hanno avuto un ritorno positivo quindi sicuramente guardare a lunga scadenza individuare magari i momenti di ingresso uscita dei mercati per chi sceglie l'approccio trend following è una cosa che può funzionare allora come si fa a investire potete immaginare il discorso è molto ampio perché prima c'era un amico che chiedeva come fare investire a 60 anni ma come fare investire a 20 anni come fare investire a 40 anni la soluzione creare una strategia di investimento che sia personalizzata che sia evergreen perché tutti noi molte volte cerchiamo di investire prevedendo i mercati prevedendo cosa capiterà e così via in verità noi dobbiamo che se vogliamo creare una situazione che funzioni dobbiamo creare un portafoglio che affronta il gnoto immaginate la classica bottiglia di vetro che gettate nell'oceano con messaggino dentro non sapete dove andrà sì potete immaginare le correnti potete fare qualche studio al mare va dove gli pare e la stessa cosa vale anche per i nostri investimenti quindi dobbiamo basarci su cosa non su cosa non sappiamo e quindi governare l'incertezza gli approcci sono due ecco primo approccio è l'approccio salmon che il contrario di quello che ho visto prima che caratteristica l'approccio salmon beh anzitutto permettete di fare una una premessa che tutte le strade portano roma cioè prima di partire con una strategia di investimento che batte l'inflazione oggi che anzi oggi abbiamo detto di no nei prossimi 10 o 15 anni pensate a chi siete voi cioè qual è il vostro partner ideale la strategia di investimento è un compagno di una vita ve lo dico perché perché ci sono diversi modi due modi sostanziali per ottenere risultati però entrambi i modi prima di attraverseranno delle fasi difficili delle fasi in cui il meccanismo si inceppa secondariamente non va bene per tutti perché perché se voi vedete delle cose le capite le fate vostre allora andate avanti diversamente no è un po la differenza fra per esempio chi fonda un'azienda e chi fa il manager permettetemi una piccola digressione mi ha raccontato una volta un cliente tra l'altro di scuola di investimenti che era attivo nel nell'ambito dell'editoria mi diceva una volta i rampoli delle varie famiglie erano persone che lavoravano in azienda che erano figli di dinastie che hanno creato l'azienda e andavano avanti nel tempo quindi quando i momenti difficili arrivavano andavano avanti perché guardavano oltre il giardino il manager che arriva adesso è un opportunity seeker è un cercatore di opportunità un cercatore d'oro fino a ieri lavorava per l'ibm oggi lavora nella nell'editoria poi domani farà qualche cos'altro ora se voi credete nel metodo vi comportate come i rampoli delle famiglie editoriali italiane cioè andate avanti e persistere è fondamentale ma si può fare nella misura in cui voi sentite vostro quel modo di procedere ecco perché dicevo discorso salmon la chiave dell'approccio salmon è partire con un portafoglio e aggiustarlo nel tempo con il ribilanciamento periodico cioè l'approccio salmon è un approccio a asset allocation costante dove voi andate a ribilanciare i pesi cioè rimettere ripristinare i pesi che c'erano all'inizio in base alle variazioni che sono capitate al mercato questo vuol dire comprare quando tutti vendono perché ovviamente i pesi quando è che si scombinano quando mercato scende quindi oggi per esempio in un approccio salmon dovreste comprare azioni magari dovreste vendere quelle americane perché il dollaro è alto dovreste comprare azioni europee che guarda caso nessuno vuole la cosa interessante è che questo approccio permette di comprare basso vendere alto perché sistematicamente voi andate a vendere cosa è salito e comprate quello che è sceso la disciplina richiesta è una disciplina ferrea perché ovviamente si tratta di abbracciare i perdenti questa è una cosa che a noi non piace fare ne vorremmo stare con i vincitori e implica una minore manutenzione rispetto all'altro approccio che invece l'approccio crowd vi ho accennato prima parlando del cliente le medie mobili però questo è l'approccio che funziona vi permette di costruire di portafogli efficaci nel lungo periodo l'approccio crowd l'ho chiamato così perché crowd in inglese vuol dire folla si basa sul trend following ovviamente non tardivo cioè trend following vuol dire inseguire i trend ma non entrare alla fine come fa il parco buoi quando poi ovviamente il mercato si inverte quindi per capirci non comprare natural gas a gira prima va bene per investitori metodici che temono di andare controcorrente quindi per alcuni era assicurante comperare seguendo un po la folla ovviamente in modo precoce anche quando è facile perché per esempio era scattato un segnale di acquisto secondo questo modello come vi dicevo nella primavera del 2009 e poi immaginate che situazione eravamo cioè veramente si parlava di fine del mondo io mi ricordo che c'era una persona che scriveva sui forum di finanza dicendo che peggio era passato l'hanno preso per i fondelli e l'inverosimile invece aveva ragione perché poi i più effettivamente da un segnale positivo però anche lì sicuramente la disciplina ferrea è fondamentale anche perché ci sono dei falsi segnali come vi dicevo che cos'è un falso segnale semplicemente una situazione in cui io compro e perché il segnale positivo e poi dopo in realtà non è partito trend positivo si si torna indietro implica una maggiore manutenzione perché è un approccio più forte cioè mentre con l'approccio salmon voi andate a ribilanciare i pesi quindi sostanzialmente avete un asset allocation fissa e poi aggiustate qui si tratta di stare magari tanto investiti in azioni o poco investiti in azioni a seconda di come vanno le cose a chi chiede se la live verrà pubblicata su youtube assolutamente sì assolutamente sì quindi potete rivederlo tutte le volte che volete quindi abbiamo capito che in tutto questo c'è un ruolo fondamentale della formazione che è quello di cui voglio parlarvi da adesso in avanti perché anche a questo discorso è collegato al bonus che vi ho promesso formazione ovviamente non in senso astratto in senso pratico e la formazione quella di segreti bancari segreti bancari a tre grandi livelli diciamo di servizi c'è la consulenza indipendente con investiment club c'è il la forma l'aggiornamento con spunti con idee operative con investo c'è a scuola di investimenti che la suite e il pacchetto che adesso andiamo a spacchettare che riguarda appunto il la formazione abbiamo due soluzioni sostanzialmente come scatole cinesi una dentro l'altra il primo livello beh se siete qua perché probabilmente siete già iscritti è il livello welcome che è un corso introduttivo alla formazione è gratuito e vi dà un po' di spunti poi ci sono quelli a pagamento che sono ovviamente molto più complessi perché anche noi per quanto siamo appassionati di finanza dobbiamo pagare le bollette ma a parte le battute siamo un'azienda commerciale che vende di servizi quali sono i caratteri comuni tanto di starter quanto di personal la fruibilità continua voi quando comprate il corso accedete a un'area riservata e potete usufruire dei contenuti i contenuti sono per sempre perché i video le cose che carico stanno lì potete farne cosa volete potete per esempio leggere un pezzo di un ebook potete guardare un pezzo di un video potete riprenderlo potete riguardarlo a cento volte e poi c'è la possibilità di ricevere news e aggiornamenti perché perché nel tempo mi è capitato magari di fare qualche correzione di andare a cambiare qualche strumento di scoprire cose nuove anche proprio sulla metodologia e quindi magari vado a togliere un video vecchio e lo rimpiazzo con uno nuovo questo ovviamente ci avrete in maniera gratuita come aggiornamento senza senza pagare nulla tra l'altro io faccio in aula già dal 2015 ho sempre fatto di corsi di formazione in aula e il punto di forza è che era bello trovarsi insieme oggi sarebbe ancora più bello dopo il periodo del lockdown lo svantaggio è che era un bombardamento di nozioni in due giorni 8 ore sabato 8 ore la domenica e poi finiva lì averli in modo digitale permette chi ha come cane figli impegni genitori eccetera genitori anziani eccetera di seguire comunque i contenuti in qualsiasi momento spacchettandoli come volete voi anche mentre siete in coda alla posta con quelle cuffiette potete ascoltarne un pezzo e poi vi resta lì perché poi il grande tema della della formazione in in aula che ok io vado partecipo poi torno a casa quello che ho imparato imparato invece di resta per sempre vediamo ora i contenuti dei corsi per rispondo alle vostre domande con starter starter si chiama così perché è un corso rispetto personal più semplificato se vogliamo personal è un corso più profondito ma starter vi insegna a costruire un portafoglio redditizio ottimizzato personalizzato la filosofia di investimento è una sola ed è quella contraria quindi vi viene spiegato bene come funziona ribilanciamento vi viene dato sostanzialmente un un portafoglio e vi spieghiamo come fare per personalizzarlo in base alle vostre esigenze ovviamente vi insegniamo anche quali tf utilizzare come scegliere l'etf tutte le cose collaterali vi insegniamo a esaminare i fondi di investimento che voi avete perché normalmente le persone soprattutto adesso non hanno della liquidità alcuni sì ma molti hanno già degli investimenti quindi ok io voglio passare un altro portafoglio ma voglio capire se quello che ho funziona oppure no e quindi l'analisi dei fondi sicuramente importante appunto e poi c'è anche l'analisi degli investimenti assicurativi perché tanti sono ingabbiati nelle pollizze o del ramo 1 quelle a rendimento garantito che poi non è mai garantito adesso hanno di costi sorbitanti e poi del ramo 3 che sono i vendicati personal è tutto starter più altre cose perché c'è tutta una parte che voi vedete al primo punto di finanza comportamentale quindi sviluppare l'atteggiamento mentale corretto perché voi potete avere gli strumenti migliori potete io per esempio il disegno malissimo mia figlioccia invece bravissima fa l'artistico ecco se voi date gli stessi strumenti a mia figlioccia oppure a me ovviamente otteniamo risultati completamente diversi perché perché ci va un mindset ci va una abilità e maneggiare certi strumenti e quindi si stiamo molto proprio sulla finanza comportamentale sugli errori su come fare a resistere su dove trovare la motivazione anche per continuare a fare le cose che vanno fatte che più delle volte sono cose da pazzi da pazzi vi racconto l'ultima follia quella di aver compratto parte azioni dei paesi emergenti durante lo down quindi quando veramente le persone volano scappare ne compravamo azioni emergenti lo farete anche voi se avete il corso starter e le filosofie di investimento sono due quindi vedremo siccome costruire un portafoglio secondo l'approccio salmon quindi ribilanciamento che è lo stesso di starter ovviamente qua sarà molto più profondito avrete esempi pratici avrete delle tabelle riuscirete anche incrociando il capitale disponibile con la tolleranza del rischio ad arrivare subito all asset allocation desiderate così via ma c'è anche l'approccio crowd quindi vedremo bene come si usa il cli dove si trova come si elabora come si combina con le medie quale medio utilizzare quando entrare quando uscire e così via c'è una parte che vi dico in realtà è marginale ma è un corso nel corso su come scegliere le azioni migliori in ogni momento vedremo come fare analizzare i fondi di investimento utilizzando di tool gratuiti come morning star perché c'è tutto basta solo sapere che cosa andare a cercare vedremo come fare a scegliere migliori tf quindi a costruire la locazione ma poi una volta che ho capito a livello personale dove voglio andare a investire devo anche capire che strumenti utilizzare quindi come faccio scegliere gli tf vediamo un pacchetto già fatto ma vi spieghiamo anche come sono stati scelti perché magari voi fate il corso e quegli strumenti lì non vanno più bene oppure se ne altre di migliori ora voi sapete non se volete la strada breve prendete quelli che vi do io se volete impegnarvi come è giusto che sia perché fate un investimento importante in termini di tempo imparate a scegliere gli tf utilizzando il il nostro il nostro metodo sostanzialmente ecco qui vedremo ovviamente come trasformare un portafoglio per egresso a quello desiderato cioè noi partiamo al contrario non partiamo dal vostro portafoglio attuale vi insegniamo a prendere un foglio bianco e partire da zero partire da zero vuol dire capire quali sono le vostre esigenze capire qual è il portafoglio che volete costruirlo costruirlo sulla carta dopodiché tirate fuori dal cassetto o dallo smartphone i pdf della banca dite bene io adesso voglio arrivare lì sono qui c'è un differenziale da coprire ovviamente perché il mio portafoglio attuale molto diverso da quello che vorrei intanto vi rendete conto magari delle fesserie che vi hanno fatto fare ad esempio magari avere troppi fondi tecnologici avere troppi dollari essere troppo orientati nelle mode e poi a spostarvi gradatamente a quella che il portafoglio siamo attuale a quello desiderato e poi utilizzare anche una strategia per ottenere una rendita periodica che non è più basata sul btp o sulle obbligazioni ecco questo per esempio è un spunto di aggiornamento io quando ho registrato questi contenuti mi sono basato su un approccio diverso perché i btp rendevano lo 0 90 magari adesso la strategia cambia per ottenere una rendita e di aggiornare video poi come una volta capito come funziona quindi come si fa l'asset allocation secondo le due impostazioni dove voi scegliete quella che vi si confà di più avete fatto diciamo il passaggio dal portafoglio attuale a quello desiderato imparate anche a declinare il mezzo per creare obiettivi specifici la pensione per esempio oppure che ne so l'acquisto della casa al mare e così via e poi come ottimizzare la fiscalità dei tuoi investimenti e recuperare le minusvalenze che un qualche cosa che è sempre interessante soprattutto per chi purtroppo ha delle minusvalenze pergresse quindi vedremo come costruire dell'asset allocation usando dei certificati buoni diciamo così con tutte le varie informazioni utili per scegliere quelli giusti e andare a recuperare le minusvalenze personal anche un'assistenza tre ore di coaching one to one con andrea che è un mio formatore che collabora con me da sei o sette anni e lui stesso ha fatto il corso una decina d'anni fa e qui sono tre ore pensate un'ora al mese per i primi tre mesi sostanzialmente un affiancamento che non è un'ulteriore formazione ma potete dirgli senti andrea io ho fatto questo così ho fatto bene ho creato questo portafoglio adesso se ho capito bene dovrei vendere questo fare questo i tempi sono questi è giusto o sto dicendo delle cavolate ho analizzato il fondo che ne so credi dras o carminac ho visto che da vendere è corretto ho interpretato bene questo funziona e poi ci sono il gruppo facebook chiuso chiuso vuol dire che sostanzialmente chi partecipa sono persone che hanno fatto il corso nel negli anni e quindi rispondono alle vostre domande sono persone che parlano la vostra stessa lingua quindi non sono corsi non è il forum di finanza online dove trovate chi trovate eccoci ecco andrea che arrivato ecco qua sono pronto con entusiasmo per incontri di tutti i nuovi iscritti ecco vedete grande andrea andrea tra l'altro una persona che a differenza mia ai capelli e capelli bianchi ha una grandissima pazienza ed è molto apprezzato lo dico perché se tra di voi c'è qualcuno che ha già fatto il corso ovviamente non potrà fare non potrà che dire confermare quello che vi ho detto quali sono le performance beh allora adesso ovviamente da inizio anno qualsiasi tipo di portafoglio voi abbiate creato create eccetera è in negativo oltretutto è difficile anche fare delle proiezioni perché qui non comperate un servizio di portafoglio modello se io compro un portafoglio modello posso chiedere quanto reso portafogli in passato e uno si fa un'idea ma qui parliamo di un portafoglio personalizzato insegniamo a costruire un portafoglio che va bene per voi e quindi magari dico delle già luca per dire che ne so c'è un portafoglio a basso basso rischio e magari rende bene ale invece era un portafoglio ad alto rischio che era di più fino all'anno scorso più o meno siamo tra il 7 e il 10 per cento all'anno un'accortezza importante qui si tratta di formazione quindi non aspettatevi che vi mettiamo dentro anche vi insegniamo a individuare l'utilizzo ultima come dire l'ultimo macro trend del momento questo lo facciamo in un servizio diverso che non consulenza dove siamo a disposizione vi trasmettiamo la nostra esperienza qui purtroppo non lo possiamo fare vi insegniamo a creare di portafogli evergreen che come vi dicevo non sono basati tanto sulla prospettiva di cosa capiterà quanto piuttosto sul difendermi da diversi scenari di mercato che non conosco perché in futuro potrà capitare di tutto potrà esserci ancora inflazione potrà esserci deflazione potranno esserci tassi alti potranno esserci tassi bassi potranno andare bene immobili potrà andare male loro potrà capitare diverse cose il bonus che vi do e che trovate anche qua sotto quindi sotto nella descrizione del video trovate come fare se vi iscrivete o personal o starter entro 30 settembre avrete 40 per cento di sconto quindi risparmiate sostanzialmente 340 euro su personal che scende da 849 510 e scendete su starter da 299 euro a 180 una cosa importante ve lo dico prima che me lo chiediate voi se comprate starter e poi passate personal cosa succede succede che pagate la differenza sostanzialmente non pagate il prezzo pieno è anche vero che però se vi comprate starter oggi con lo sconto e come l'aveste pagato 299 quindi se voi comprate personal pagate per le differenze pagate il prezzo pieno oltretutto dato che c'è la possibilità di avere il recesso per chi non è soddisfatto io vi invito a provarlo vedete io sono qua metterci la faccia se c'è qualcosa qualcuno non è contento semplicemente non non vi piace può chiedere il recesso invece se andate su segretibancari puntocom telefonami quindi lo scrivete scritte nella barra sostanzialmente andate su un form dove potete chiedere informazioni fissare un appuntamento con me dove vi darò tutte le informazioni sul corso anche qua desidero essere chiaro l'appuntamento telefonico è finalizzato a parlare del corso quindi cosa contiene quante ore sono quanti video quanti non telefonano fissate un appuntamento per chiedermi cosa ne penso del dollaro perché purtroppo non vi posso rispondere ecco dimenticato questo bellissimo l'imps non si chiama ponzi adesso inizio a rispondere naturalmente le vostre domande tornando un po indietro ecco ecco generazione z bene presente ok scusate se vi rispondo in ritardo ma dato che sono da solo a fare la regia e fare anche la parte diciamo di contenuti mi sono un po disconnesso con il monitor guardavo la telecamera non guardavo invece le cose che mi stavate scrivendo ecco tutti i portafogli permanenti sono in rosso in questo periodo sì perché anche qua il portafoglio permanente è un portafoglio che si basa sull'avere diversi strumenti finanziari che fronteggiano diversi scenari di mercato anche qua c'è una moda no il portafoglio permanente ha avuto due momenti di moda il primo quello di harry brownie nel 2008 perché perché il portafoglio permanente nella versione classica prevede un 25 per cento di oro all'epoca loro schizzò le stelle e quindi di nuovo in retrospettiva ricordate l'effetto recency quello delle prime slide di questa sera faceva sì che le persone fossero interessate a quel tipo di portafoglio il secondo boom l'ha avuto nel 2017 18 quando uscì un libro soldi domina gioco di anthony robbins anthony robbins è un formatore americano e però in quel caso lì presentò il portafoglio all season di ray d'aglio che è un grandissimo investitore gestore di fondi edge compagnia bella il concetto però qual è e che poi le persone che si erano illuse di aver trovato un portafoglio che non perdeva mai come il vecchio demi deni non so se vi ricordate no per l'uomo che non deve chiedere mai negli anni 80 per chi ha un po di anta come me e beh si è trovato spiazzato perché poi purtroppo anche quelli hanno avuto dei momenti negativi e qua torniamo al discorso discorso della punto della mantenere la rotta la componente obbligazionaria ma guarda di per sé btp vanno anche bene a scuola di investimenti noi preferiamo gli etf per una ragione perché tu compri un btp ma tu sai che i btp non hanno un rendimento uguale per tutti no ogni durata ogni scadenza un suo rendimento il legame la funzione che lega la scadenza di un btp con il suo tasso si chiama curva dei rendimenti e questa curva si muove ora se tu vai a comprare un singolo btp si dice che tu crei un portafoglio bullet come un proiettile cioè tu vai a comprare il btp decennale ok sei sensibile a quel punto particolare della curva di tassi prova ne è che se il btp decennale aumenta di valore scusate i tassi decennali aumentano di valore voi perdete i soldi se invece utilizzate l'etf voi create un portafoglio che si dice barber cioè un portafoglio che e risponde in modo asimmetrico i tassi sostanzialmente vuol dire che quando sale di più quantità si scendono di quanto perda quando i tassi salvano quindi avere l'etf anche se si tratta di btp ha senso perché vi permette di investire lungo tutta la curva di tassi e quindi creare questo effetto appunto di portafoglio convesso o barbell portfoglio non pensi che trend di bassista guarda francesco tutto può essere il problema non è tanto cosa penso il problema è non agire secondo quello che pensi perché se tu lo fai e poi la previsione diventa sbagliata come nella quasi maggioranza di casi diventa poi un bagno di sangue io credo che sia importante avere gli strumenti adatti per fronteggiare quell'approccio lì quella situazione lì allora se tu sei una persona che ha paura quindi segui trend following utilizzando come vedrai su personal il cli e le medie mobile adesso teoricamente sareste zero di azioni perché i segnali di uscita sono scattati tempo fa per fortuna fino ad oggi è andata bene se invece sei un investitore di tipo di tipo salmon quindi una persona che vuole veramente guardare per il lungo periodo e gli piace comprare a prezzi bassi invece fai la cosa contraria inizia a cumulare oggi prospettiva poi di un bilanciamento magari fine anno sono due strategie completamente diverse ma credetemi nell'arco di una decina d'anni i risultati non sono più così diformi perché appunto tutte le strade portano a roma il problema è che se tu credi che il mercato scenda e quindi verosimilmente hai un approccio più trend following e poi utilizzi l'approccio crodo pure per risparmiare compri starter che ti spiega l'approccio scusate l'approccio salmon mentre tu sei un crod quando poi dovresti vendere tu invece quando il sistema ti dice di di comprare tu vorresti vendere ovviamente poi non fai le cose non ottieni dei risultati approccio crodo anti inflazione e massimo scenderà breve sì ora in realtà cristina io non so cosa farà l'inflazione vi dicevo idea mia è che comunque l'inflazione resterà ma ci sono delle delle regole in finanza che persistono una regola è quella che a maggior rischio deve corrispondere maggior rendimento viceversa se no cadiamo negli schemi ponzi vi promettono rendimenti alti rischi nulli voi perdete tutto un'altra regola l'equazione di fisher l'equazione di fisher afferma che il rendimento di un investimento è dato da un rendimento reale effettivo più il tasso di inflazione perché ovviamente le persone non sono stupide e non non vogliono comunque stare come dire vedere erodere il capitale dell'inflazione questo può succedere nel breve periodo nel lungo periodo non succede quindi assolutamente direi che sono perso un po la domanda l'inflazione che quindi tenderà a scendere a breve e i portafogli che andrete a costruire in maniera autonoma portafogli evergreen eccetera eccetera non con la nostra consulenza ma facendo da soli chi vuole farlo consulenza chi già è iscritto ai servizi di consulenza è un altro percorso li è tutto più semplificato costa anche di più giustamente e avete la nostra esperienza vi dicevo sì nel tempo si creano portafogli anti inflazione Gianluca Balducci ecco qui esula la domanda Gianluca consigli insomma di utilizzare magari ci sentiamo privatamente utilizzare i canali più privati di comunicazione qua parliamo di formazione parliamo di come utilizzare un corretto approccio e uno studio un corso per imparare a investire come dire qua stiamo insegnando stiamo dicendo alle persone se vogliono prendere la patente investitori di 70 anni Carlo tanto complimenti che è arrivato a 70 anni 70 anni ti ripeto 15 anni di sono antitemporale sono qualcosa assolutamente fattibile quindi sì 70 anni conta che mediamente come dicevo all'inizio poi non so se siete si perso un pochino ma magari qualche pezzo ma sostanzialmente noi uomini abbiamo un'aspettativa di vita di di 83 84 anni ma io vedo comunque che ci sono persone anche che muoiono purtroppo ma che hanno 90 90 da più anni Ale non so se una affermazione o una domanda sicuramente gli etf azionari vanno bene però c'è anche un'altra cosa che qua è non sottovalutiamo mai che è la vostra tolleranza al rischio perché quello che funziona nella carta non funziona poi nella realtà nel senso che voi creato un portafoglio che funziona ma se lo vedremo poi personal con la finanza comportamentale la pancia prevale sulla testa quindi se voi costruite un portafoglio senza avere presente poi quali sono la vostra tolleranza al rischio quando il portafoglio inizia a travallare andate in asfissia vendete tutto e che magari lo fate poi nel momento peggiore allora cippi ma io direi per quello che riguarda noi cioè gli strumenti finanziari che vi insegneremo a spadroneggiare nei corsi di formazione va benissimo anche il conto della banca sotto casa anche se non è trading fine coffini hanno vantaggio che costa meno sostanzialmente questo però le piattaforme hanno più o meno tutti è possibile avere lo stesso trattamento si sono due cose diverse nel senso che con investo plus tu compri un portafoglio hai comprato un portafoglio modello che viene aggiornato in base al nostro ufficio studi che è composto da me da un direttore investimenti da due consulenti con il corso di formazione tutta quella parte lì diciamo di di esperienza non possiamo trasmetterla per cui se fai formazione e magari stai pensando di interrompere questo class lo puoi fare ovviamente puoi comprare personal con lo sconto starter però sappi che ti viene poi mancare la nostra esperienza e sono percorsi un po diversi la formazione io la vedo un po come voglio imparare guidare oppure per chi come piace magna voglio imparare a cucinare oppure la consulenza nella forma più indipendente più completa diciamo dell'investment club o con investo plus che sono di portafogli modelli diciamo di consulenza generica in quel caso lì voi volete sedervi al tavolo e mangiare quindi avete lo chef che vi prepara i piatti avete la sua abilità avete la sua esperienza saltate tutta la parte diciamo di preparazione costa un pochino di più perché lì ovviamente come sai canone ricorrente ecco qui questo è interessante sandro il btp italia come anche qualcuno con il btp italia non è la soluzione a tutti i mali perché il btp italia può anche non pagare più interamente non è che subito italia di nuovo in una diversificazione io con un paese che è stretta fortemente indebitato con un problema anche di distorsione da paesi di origine perché noi siamo italiani non dovremmo investire in italia il btp italia non è la soluzione a tutti i mali o il btp italia va bene va bene magari oltretutto se uno volesse proprio fare il pistino magari un anno fa oggi con l'inflazione così alta magari non è più così interessante comunque la soluzione è sempre un portafoglio diversificato perché non si sa mai e abbiamo anche le lezioni a breve dovessero vincere partiti anti euro comunque partiti che vogliono continuare a fare deficit prima o poi qualcosa succederà al debito italiano ecco allora quale broker consiglio di operare ma dunque voi potete utilizzare quello che volete nel senso che gli strumenti finanziari tutta la procedura che imparate nei nostri corsi la potete applicare con qualsiasi piattaforma per risponderti i tre preferiti se vogliamo sono fine ecco anche se è un po caro soprattutto in ultimi tempi che banca o anche direct sim direct sim una sim di torino che c'è dal 1996 è quotata in borsa è una sim non è una banca quindi è una piattaforma tra l'altro se cercate sul sito segreti bancari quali sono le sim troverete un articolo con tutta la spiegazione ma sostanzialmente potete operare dove volete ma quelli se tre sono qui più interessanti belen bond della romania sicuramente anche i bond argentini davano rendimenti interessanti anche i bond russi davano rendimenti interessanti ma i russi anche un po di anni fa quelli messicani tutte situazioni che poi sono andati in default quindi di nuovo cercare la singola obbligazione senza un corretto presidio del rischio che un qualcosa di molto pericoloso perché di nuovo perdiamo il contesto nel senso che ci concentriamo sull'opportunità del momento e poi rischiamo di dare il giro se quella cosa che noi ci aspettiamo non si verifica allora questo interessante giampaolo la strategia salomon e basata su un portafoglio stati quindi un portafoglio di tipo lesi se così vogliamo la differenza dove sta nel numero di portate voi potete andare a pranzo sempre per parlare di argomenti così leggeri potete andare a pranzo dove fanno primo secondo la classica camminista in trattoria di chef rubio potete andare a pranzo al bistroio di cannavaciuolo il pranzo è sempre magari un primo secondo dipende da come è assortita e fatta la pietanza sostanzialmente no questo per dirti che il lesi portfoglio un portafoglio intanto un portafoglio uguale per tutti non è personalizzato quindi che tu voglia rischiare più o meno quello è secondo portafoglio che ha quattro asset azioni mondiali oro obbligazioni lunga scadenza obbligazioni per le scadenze stop nostri portafogli sono più articolati e poi soprattutto la cosa forte che vengono personalizzati se non replicate tutto portafoglio perché portafogli lo vedrete sono portafogli comunicazionari nella loro un modello poi voglio le replicate al 50 per cento 60 per cento l'ottanta per cento al 90 per cento secondo di quella che è la tolleranza al rischio ecco perché vi dicevo su personal troverete delle tabelle anche con degli esercizi da fare per capire se avete capito ma delle tabelle dove incrociate il tipo di capitale la volatilità che siete disposti a sopportare e vengono fuori il tipo di asset allocation andare a implementare le recensioni dei nostri corsi sono sulle pagine di corsi stessi io però vi consiglio anche banalmente cercate in rete nel senso che le recensioni che sono sul nostro sito sono tutte positive ma non perché le censuriamo ma perché i nostri clienti hanno buon cuore di dire se si sono trovati bene chi non si trova bene magari sul nostro sito non lo dice ma al di là della recensione la cosa importante è la garanzia del soddisfatto rimborsati perché uno può avere anche mi è capitato di comprare dei corsi delle cose con siti che avevano 4,8 di recensioni di trust pilot e poi chiesto rimborso perché non mi sono trovato bene oppure anche su amazon quindi questa è una cosa che può essere interessante guarda david sicuramente è un ottimo momento per fare un pack su un portafoglio nel senso che se tu vai in base alle tue esigenze vai a costruire un portafoglio personalizzato ed è in personal ma anche in starter ti insegniamo cosa fare poi fai un pack su portafoglio che è una cosa diversa da fare il pack sull'azionario pack su portafoglio vuol dire che io vado a investire ribilanciando i pesi cioè si investono il portafoglio e il portafoglio è equilibrato ed è quello che mi piace quello che io sposo per i prossimi 5 10 15 20 anni quello che volete nuovi tra l'altro i portafogli che andrete a costruire come sappiate che io anch'io col livello massimo di rischio bene cosa faccio i miei mille euro del del pack vado metterli a rotazione sui diversi pezzi del portafoglio stesso gettandoli tra virgolette volta a volta sull'attività finanziaria che ha reso di meno che ha perso di più grazie vinci bene allora grazie per la domanda giac ne riparleremo questo però riguarda più il discorso della consulenza nel senso che ha senso se uno non è più convinto nel caso di di titoli di scuola di investimenti sono evergreen cioè se andiamo a comprare delle macro classi di attività quindi diversi tipi di azionario diversi tipi di obbligazionario commodities e quant'altro va da sé che quelli li teniamo quindi in perdita non si vende mai può capitare di vendere in perdita se tu utilizzi l'approccio crowd per esempio e c'è un come faccio a ribilanciare a vendere in perdita se ribilancio i pesi beh i bambini è che scendo tutto magari qualcosa è sceso meno di qualcos'altro quindi il suo peso è salito però in perdita allora io per linearlo devo venderlo per comprare qualcosa che è sceso ancora di più ancora la continuazione dividendo interessanti sì anche qui è un mito il fatto che i titoli ad alto dividendo siano meno volatili degli altri non è vero come non è vero che il settore farmaceutico l'agroalimentare è meno volatile tra l'altro anche tenendo presente quello che è successo negli ultimi anni tutti questi settori con altri dividendi sono titoli difensivi che sono sensibili tassi di interesse quei tassi che sono saliti guardate cosa ha fatto enel esatto cipi quindi sinistrazione persiste quello che diceva prima cioè mercato continuerà per la sua strada ovvero i rendimenti si adegueranno in modo tale da darvi il tasso di inflazione più un guadagno guarda gianluca qui dipende un po da quanto tempo impieghi tu il corso personal che la trascrizione tolti tutte le varie battute le cretinate che dico io ogni tanto di un corso in aula che facevo sabato e domenica a tempo pieno che l'epoca si ha investito il libro quindi erano 16 ore in aula direi io penso che se tu lo fai con attenzione 15 giorni 20 giorni assorbi tranquillamente tutto poi ci sono persone che magari lo riguardano subito altri che lo riguardano dopo un anno il vantaggio di averlo sull'area riservata è quella che poi uno lo rivede però direi un paio di settimane dovreste riuscire a fare tutto e l'operatività sui 30 anni o più anche qua direi che è una quota di un portafoglio diversificato una quota di bond a lunga scadenza ha senso inserirla bisogna capire quando inserirla e come investire tutto il resto io cosa faranno i tassi a 30 anni non lo so so però che se vogliamo costruire un portafoglio efficace abbiamo bisogno di più ingredienti bond a scadenza meglio lunga direi intorno ai dieci anni e cosa possono naturalmente fare farne parte carlo che percentuale ora che siamo 4 per cento e dipende da che portafoglio vuoi costruire cioè quella è una risposta che ti darai tu quando avrai fatto il corso di formazione non posso dirtelo io adesso senza sapere nulla c'è tutto un percorso da fare e come dire che ne so come vinceresti una partita di scacchi e beh prima di imparare un po di cose no e poi alla fine impari poi magari la mossa conclusiva allora guardi io più che lazy portfolio direi di portafogli evergreen il dinamismo lo fa in fase di ottimizzazione però i corsi insegnano a costruire di portafogli personalizzati evergreen perché vi dicevo prima vantaggio anche di chi ha investo plus piuttosto che investe non club se voi fate un servizio di consulenza ci siamo dietro i miei uomini questo cosa significa che se magari facciamo mettere dentro qualche cosa magari un po di speculativo lo facciamo tra virgolette sotto controllo medico sbagliamo chiudiamo usciamo va bene vendiamo guadagniamo in avvia per dirvela tutta abbiamo fatto delle operazioni in perdita perché poi mercato si è girato all'improvviso su un etf sulla blockchain e ha fatto un'operazione in straguadagno nel 2020 con un etf sul clean energy abbiamo straguadagnato con un etf sul nasdaq biotech abbiamo guadagnato con etf su information technology tutte cose che però non posso andare a insegnare nei corsi di formazione perché vedete come c'è un avvicendamento di questi temi e non so dirvi fra dieci anni quale sarà il prossimo tema quindi vi insegno creare un portafoglio che è a maglie larghe ed è un po come dire anziché andare a pescare cercare di beccare il pesce singolo tu tira su tutto tirare su anche magari una scarpa rotta però nell'insieme il pesce buono prendi questo è un po il concetto allora matteo non si può discutere del portafoglio in essere cioè le ore di coaching sono ore in cui ti insegnano a applicare il metodo cioè il portafoglio impari tu a gestirtelo una volta che ho fatto il corso sarei perfettamente in grado di analizzare il portafoglio se vuoi un'analisi subito diciamo che non è questo servizio corretto quello corretto l'investment club che un servizio di consulenza di cui questa sera non parliamo allora lì sì c'è un'analisi da parte nostra qua impari tu è un po come dire vado scuola guida dopo di che cosa hai la patente poi sali in macchina guidi vai dove vuoi questo è un po il concetto quindi nelle ore di coaching andrea ti dirà appunto tu gli dirai guarda io lo sto analizzando in questo modo qua ho creato questa locazione ho già il mio piano di azione quindi cosa devo vendere e che cosa devo comprare è corretto quello che sto facendo c'è il metodo funziona così oppure sto dicendo delle cose non corrette e questo è il discorso allora francesco come puoi iscriverti qui sotto sotto dove ci sono i commenti di youtube trovi tutte le indicazioni trovo le indicazioni potete scrivervi dal sito trovate il link trovate un coupon sconto oppure direttamente facendo un semplice bonifico ma qui sotto nelle nei commenti per chi vuoi un po più smanettone con youtube semplicemente sotto il video trovate tutte le indicazioni guarda non so risponderti nel senso che non è anche questa la sede per parlare di queste cose qua qua tutta la sera che stiamo parlando di come creare un portafoglio diversificato di come basarsi su cosa sappiamo di non sapere e ti ringrazio per la professionalità ma non saprei cosa dirti un po come dire guarda la getta 5 euro comprata vinci poi se va bene va bene piuttosto che piuttosto che no dunque adesso ridurre il peso in mutuo si può essere una valida opzione può senso ridurre mutuo se hai già un portafoglio magari redditizio forse non ne vale la pena perché comunque nel tempo allora se tu per dire scegli ti fai il corso scegli un approccio estremamente prudente e quindi hai un'aspettativa di rendimento basso allora conviene estinguere il mutuo se invece magari hai un po più di di pelo finanziario sullo stomaco allora ha senso invece avere un approccio un po più aggressivo e a questo punto qua andrà avanti con gli investimenti perché nel tempo si otterranno dei risultati grazie soprattutto onesta questo ci tengo tanto sia perché se non lo fossi il web mi avrebbe letteralmente spazzato via scusate che ecco non ho tirato il microfono ma perfetto si sente ancora e poi perché l'onestà è una cosa fondamentale di fatti siamo così onesti io e la mia azienda che comunque è una società che ci esponiamo noi al rischio di disonestà perché voi capite che negli istanti in cui diciamo se non sei soddisfatto che rimborsiamo ci esponiamo anche a chi magari come fa qualcuno poco onesto compra sapendo già di chiedere rimborso però l'onestà assolutamente fondamentale guarda antonio se mi scrivi domani sera ti dirò cosa ne penso cosa aspettarci dopo la dopo che ha creato power ti dirò anche come saranno andati i mercati anche qua luca i mercati emergenti fanno parte in maniera variabile di un portafoglio diversificato quindi si tratta di capire che approccio ai c'è approccio prod approccio salmon si tratta di capire in un asset strategico quanto andare a comprare e poi in modo più tattico se comprare subito comprare poco per volta un po qui sono tante domande che però esulano un po da dei contenuti della serata come si calcola la cedola semestrale btp italia si calcola sostanzialmente prendendo la cedola fissa aggiungendoci il tasso di inflazione e aggiungendo anche il tasso di inflazione sul capitale btp italia paga una cedola sostanzialmente che ha un interesse reale più recupero anche dell'inflazione sul capitale Enrico forse ho già risposto prima dicendo appunto che dipende che tipo di portafoglio vuoi creare allora se tu sei una persona prudente ovviamente io ho la liquidità e il mio benchmark diciamo così è un rendimento molto basso ha senso estinguere mutuo se voi invece pensate più lunga scadenza ha senso investirlo addirittura dico la verità c'è un mio cliente che fa esattamente il contrario cioè lui addirittura abbiamo stabilito una strategia dove utilizza un prestito lombard quindi un finanziamento per poi investire i soldi quindi li paga un interesse alla banca per investire perché è positivo sul fatto che di qualche anno i mercati finanziari daranno un ottimo rendimento bene con questo direi che è tutto le domande sono finite io vi saluto vi ringrazio permettetemi in punto solo di ricordarvi che se avete delle domande sui corsi di formazione o anche sui servizi di consulenza potete scrivere proprio sul sulla barra degli indirizzi segretibancari punto com slash telefono è importante che lo scriviate come url cioè nella barra degli indirizzi perché altrimenti non funziona e accedete a un calendario dove trovate sostanzialmente la possibilità di pronotare una chiamata con me se vi iscrivete a personal o starter entro fine mese quindi abbiamo sostanzialmente due settimane che un arco di tempo sufficientemente ampio ci sarà 40 per cento di sconto che non è facilmente quindi irreplicabile nel senso che ne per anni non ha fatto sempre il 15 per cento di sconto adesso è la seconda volta che facciamo 40 per cento ma in modo occasione eccezionale e trovate sotto il mio video tutte le indicazioni per pagare con l'iban per acquistare con il codice coupon no niente sconti per investimento club ma per investimento club non c'è neanche bisogno c'è chi ha investimento club secondo me fa bene continuare lì anche perché lo dico può come dire forse costo di sembrare presuntuoso con l'investimento club avete una professionalità di un altro tipo è un po come dire un autista che mi porta un autista che fa quello di mestiere che tutto il giorno seguire i mercati che ha uno staff di persone che lo fa e ovviamente il servizio è un po diverso quindi il consiglio se fate l'investment club attualmente di non passare alla formazione la formazione la fa chi chi vuole mettersi lì perdere del tempo fare delle cose se sei nell'investment club ti trovi anche bene tra l'altro anche lì ci saranno poi delle novità importanti stiamo rivedendo un tutto la lo staff eccetera direi che non ha senso fare fare la formazione ultima di cippi 120 strumenti si è sbagliato nel senso che quando fare il corso te ne accorgerai bisogna tarare intanto selezionare i tipi di strumenti da utilizzare e poi bisogna capire anche che peso dargli perché un po come il pepe il pepe buono ma se ne metto tanto poi mi rovina la pietanza bene quindi per qualsiasi cosa io sono a vostra disposizione al link punto segreti mancari puntocom telefonami e che dire grazie per essere stato in mia compagnia buona serata a tutti e vi aspetto a scuola di investimenti ciao